Annamitrano per Ciac per la lunga corsa con Adriano Tardiolo, Andrea Magnani e Giovanni Calcagno. La prima domanda per il regista Andrea Magnani, una fiaba che parla di libertà, come l'hai costruita e come è nata? Ma credo che questa fiaba nasca in realtà da un appiglio molto reale e la realtà è che ci sono ancora oggi 60 bambini che vivono in carcere con le loro madri in Italia, più diverse centinaia in giro per il mondo. C'è questa possibilità che la legge permette, ovvero di tenere i figli insieme alle madri in carcere per non spezzare quel filo materno che li collega. Ecco, io sono partito da questo espediente, da questo fatto reale per poter raccontare in realtà una storia che di reale forse ha poco, forse ha tanto, però insomma è la storia di Giacinto che in carcere ci nasce, ci cresce, appunto riesce a starci con la madre per i primi anni di vita e poi quando deve essere rilasciato non si adatta al mondo che è fuori, ma semplicemente perché il mondo che ha vissuto dentro è il luogo che lo protegge e lo protegge, lo accudisce. A me piace anche pensare che appunto stiamo parlando anche di un carcere femminile, un carcere femminile in qualche modo è materno, è un po' tornare al grembo, è forse la voglia di non uscire da quel grembo. Io penso che attraverso una storia di questo tipo possiamo raccontare una metafora che riguarda tanti di noi, ovvero la difficoltà a volte di uscire dagli stessi recinti, dalle stesse gabbie e quindi dalle stesse carceri che noi ci costruiamo intorno per evitare di abbracciare la nostra vita e di inseguire i nostri sogni e la nostra libertà. Infatti Adriano Tardiolo è Giacinto e all'interno del carcere tu trovi una tua dimensione, quasi come se le sbarre fossero un confortante e rassicurante nido che ti accoglie e da cui tu non vuoi uscire. Ecco, puoi parlarmi del tuo personaggio e di come l'hai costruito? Beh sì, per Giacinto il carcere rappresenta la casa, è il luogo dove appunto vive e fa di tutto per ritornarci poi perché quando non può più rimanere in carcere fa di tutto per ritornarci. E allora, il mio personaggio l'abbiamo costruito, pensato, partendo dall'idea che veniva dalla sceneggiatura e poi insomma l'abbiamo costruito su questa purezza che rappresenta Giacinto, questa ingenuità. Poi insomma la fine Giacinto è il frutto del luogo in cui è nato e quindi insomma è una persona che ha sempre vissuto in carcere e quindi quello che è viene anche dal luogo in cui è nato diciamo. Giovanni Calcagno, invece tu sei il capo di le guardie carcerarie del tendenziario ma sei anche un padre per Giacinto, ecco tra di voi si è creato questo bellissimo rapporto che si vede all'interno del film, c'era davvero anche su di set e com'è stata questa esperienza per te? Io ho avuto la fortuna di confrontarmi con quattro Giacinti, un bimbo neonato, un bimbo di tre anni, uno di sette, no massimo un po' di più, undici credo sì. Di undici e poi insomma ovviamente il nostro Giacinto nella versione più matura che è il nostro Adriano Tardiolo. Questo ovviamente ha fatto realmente maturare un sentimento paterno attraverso anche delle scene che sono state realmente toccanti per me, dei giochi specialmente con i bambini più piccoli. Naturalmente questo si è mantenuto anche con Adriano che mantiene questo sguardo di questa qualità per quanto riguarda il mio personaggio, riflettendo tra le interviste di oggi devo dire che credo che sia un personaggio molto fortunato, un personaggio che nella cui vita cade finalmente un elemento disturbante che lo inceppa questo meccanismo di sì e no, di bianco e di nero, di giusto e sbagliato e lo porta a vivere uno stato di crisi che lo porta a riconsiderare tutta la propria vita che è la vita ovviamente di una guardia che è anche un carcerato. Ecco Andrea, io ho trovato specialmente nella prima parte del film tante ispirazioni di altri colleghi illustri sicuramente, in particolare Wes Anderson, mi sono sbagliata? No, assolutamente no, nel senso che sicuramente c'è un lavoro sulla simmetria che è anche un omaggio quasi anche tipico insomma dei lavori Wes Andersoniani se vogliamo e qua c'era la volontà di lavorare sulla simmetria proprio per come si vede il carcere spesso, no? Soprattutto chi vive il carcere all'interno vive costantemente con il pensiero che c'è un fuori, c'è un dentro e c'è un fuori, quindi c'è un mondo diviso in due se vogliamo. Ecco, mettendo il personaggio al centro dell'inquadratura o i personaggi spesso al centro dell'inquadratura era un modo anche per indicare allo spettatore questa divisione del mondo in bianco e nero come citava anche Giovanni prima piuttosto che dentro e fuori, paradiso e inferno, possiamo trovarne tante di metafore. Però ecco, credo che lavorando sulle simmetria si poteva arrivare a quel tipo di linguaggio anche, quindi assolutamente sì c'è un riferimento anche forse nei colori, nella palette di colori c'è un riferimento molto importante, comunque a un cineasta che io adoro. E anche le musiche sono particolari, mi piace citare, le musiche sono di Fabrizio Mancinelli innanzitutto, è stato un lavoro a distanza perché lui abita a Los Angeles, quindi non ti dico, ore notturne improbabili mi chiamava per cercare di farmi ascoltare qualcosa. Molto bello il fatto di lavorare solamente con le voci, quindi non c'è strumentazione, ci sono solo voci, battiti di piedi, battiti di mani, all'interno della crona sonora, poi debitamente montata, ma questo anche perché sono i suoni principali che tu puoi sentire o che potevi sentire, perché adesso c'è l'avvento delle radio e insomma dei brani musicali, in carcere senti un po' tutto, però ecco, un tempo, gli unici rumori che sentivano quelli delle voci umane all'interno di quei luoghi. Come dicevi tu Andrea, il film è ricchissimo di metafore, di simboli, di richiami, interessantissimi, sono numerosissimi. Ecco, io vorrei chiedervi, come vi siete relazionati, ciascuno di voi, con questo tema degli ultimi, delle persone speciali, a cui tutti questi simboli e metafore li chiamano in continuazione, ad un mondo speciale? Beh, tu hai citato gli ultimi, però insomma potrei, sì, sono degli outsider, no? O quelli che si usa a dire adesso in questi giorni, proprio underdog, ecco, ma c'è questa forse, la volontà di, almeno da parte mia, poi Adriano e Giovanni la pensano forse in maniera diversa, ma da parte mia c'è la volontà di mettere, accendere, c'è la volontà sempre di mettere un faro verso queste persone che sono forse poco raccontate dal cinema. C'è spesso chi dice il cinema per essere di successo deve essere bello, nemmeno ci devono essere gli attori belli. Ecco, io allora forse non farò parte di quella categoria, perché secondo me la vita vera, in realtà porta sia bellezza e porta tanta normalità, tanta, e addirittura nella tragedia, così come nella commedia di normalità ce n'è tanta, e nella normalità a volte trovi soprattutto quella cosa speciale che ti fa risaltare magari quello che è uno sguardo, quello che è un personaggio. Ecco, sì, prima citavi anche altri personaggi nel film, e mi piace ricordare questo, la grandissima Nina Naboca che fa Rocky, ma anche Barbara Bobulova che interpreta la direttrice Malin. Ecco, tutti e due questi personaggi che hanno vissuto la loro gran parte della vita in carcere vedono quel mondo con un occhio solo, perché il fuori gli è un po'... e quindi Barbara ha una benda all'occhio dovuto, questo non si sa, ma è una backstory del personaggio, un incidente di quando era piccola, crescendo proprio in quel luogo, perché il padre, era il direttore del carcere precedentemente, quindi lei è cresciuta negli stessi luoghi in cui è cresciuto Giacinto. E anche Nina, che ha vissuto in Argastolana, vive lì tutta la sua vita, ha un problema di cataratta all'occhio, e quindi c'era questa volontà di poter vedere, di far vedere queste persone che sono dentro tutta una vita, che possono vedere quel mondo solo da un punto di vista. Credo che lo svolgimento di questo grande affresco che è questo film, che viene attraversato da questa... vissuto attraverso questa vita che cresce, credo che lasci sorgere alla fine come un sentimento di compassione verso l'essere umano, al di là del bene e del male. Per me, non lo so, che sono anche meridionale, è qualcosa che sento molto fortemente, questa capacità di andare ben oltre le regole sociali o addirittura le regole giuridiche, di guardare le vite con uno sguardo che può essere con un'altra qualità. Allora, io vi ringrazio moltissimo. Grazie a te. Grazie a te, e auguro alla lunga corsa, in uscita in primavera, so, con Packet Film, una grandissima fortuna. E anche qui al Torino Film Festival. Grazie. Grazie, grazie tante.